Ciao a tutti ragazzi siamo tornati su Fortnite dopo un periodo di interruzione perché non c'avevo internet E qui con noi abbiamo Due gombo Che si divertono a far scoppiare le bolle con le gomme da masticare Quest'oggi facciamo Titani Una mappa bellissima E si C'è allora praticamente Ogni volta che è murito scegliete un potere nuovo E avviamo Ci sono tipo 3-4 poteri rottissimi E 3-4 poteri che fanno schifo E il gombo viola vicino al potere rottissimo No E l'hanno già presa E con un nexus praticamente Allora dite i poteri che avete Perché così spiega Allora nexus praticamente Cosa fa Quando avvicina qualcuno E usa il rift Quello che ha riftato umore Invece quello che ho io e wonder Praticamente wonder a sto telecomandino Che se lo click mi teletrasporto in un posto a caso Poi invece tu che cos'hai? Angel Angel praticamente Camminando va lentissimo Ma vola E c'ha come armi Il lancio razzi E il cicchino automatico E anche la tempesta Vabbè la tempesta Poi si ricade il calmo in 30 secondi Ho già eliminato il nexus Che era il più rottissimo Perché non so S'è il rift Aveva alcuni kit hanno L'altro istante di carica Tipo il mio Vedete Lancio poi già C'è la carica Vabbè L'abbè 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 Si è preso chimera Il gumbo verde C'ha tutte le robe Dei nanizi Sì sono sette Tutte le robe Sì sono sette Poi io mi prendo Il kit Il kit di kit Che ci scudo Di 20 secondi Allora C'è Tu hai ancora il kit Dell'angelo A posto Allora Chimera Praticamente Anche senza il nanito Può fluttuare Ecco il suo potere E c'è questa roba Che è rottissima Ok E' morto Non so se io E basta Questi razzi Ti ho preso Ti ho preso Adesito Non so neanche io come Adesso Il gumbo verde Che potere Si sarà preso Allora Vediamo un po' Fai a vedere se tanto l'arma Non mi colpisco Fai a vedere se tanto le armi Ah ok Si è preso a fondazione Fondazione c'è Il jetpack Aiuto Allora Dove saranno mai? Che visuale bruttissima Che c'ho Aiuto Aiuto Mi sono preso degli infarti Ci scudo mangiato E muoio E muoio Allora Questo qui c'ha miglia di vite Ed è rottissimo Però non lo prenderei Perché Prendiamo un kit Questo qui è bellissimo Allora io ho preso il kit con la bomba ballerina Che si ricarica Che si ricarica ogni 5 secondi Qua c'è la tommy Ma state volando tutte e due Si Va bene E c'è anche la mucca Purtroppo qui la mucca non salta 47 Dove Che kit hai preso? Quello là Che diventa sempre più Allora prototel Prototel Io ho colpi in finito qui Si passa dalle armi Cioè tutte le armi Però non ci sono le armi verdi e le armi viola Fratello Bumbo 87 E stanno male Allora posso pusharlo così Si ok Che kit c'hai adesso? Toxic Ah toxicity Questo qui c'ha le stinchi infinite Stando quell'arma c'ha Si Io prenderò Bumbo Bumbo è proprio bello Anche la gravity Ah ok Ho c'è il bumbo Va bene Ho c'è il bumbo vero Godo Godo Oh vinciamo Ho c'è anche domenico Troppo forte Io non lo so Ah oro Ora Ma c'è il side route Lui C'ha il mille di vita Noi lo dite che può ucciderlo E' quello che si è preso domenico Ma chi io Antonio? Si Allora Si si è preso il knight Allora il knight C'ha il piccone che fa 80 Ed è appena morti Avevo E' rimasto sotto la cube queen No pensavo che è rimasto Chi è? Che altro è rimasto? Che si? Ma si è rimasto Vlad 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 c'ha le Le bombe fumogene E le Le doppie balestre Che fanno 99 Ah il più difficile D'accidere E' Antonio Perché c'è il bumbo verde Noo la mia Bomma fumogene Eccolo Eh vabbè no E' impossibile C'è il side routes Alla fine Perché tutti i kit forti Si tolgono Aspettiamo lo scontro Tra Un side routes A 425 di vita E Un Non mi ricordo Vlad Con non so quanta vita No però è vero Il side routes Ha colpi limitati Quindi se Ha fatto così più di colpi Eh ma Io c'è Solo 100 di vita Vabbè ma Ha 50 colpi Minigun E Non Il Il fucile non lo vedo No No E vince il bumbo verde E quindi Che la mentina è in bocca Col bumbo verde che vince Ci vediamo Domani Ciao